11 novembre San Martino alle cantine Pietra Torcia si festeggia. Sì, quest'anno finalmente riusciamo a farlo proprio l'11 novembre. È una tradizione che abbiamo fatto fin dall'inizio perché volevamo condividere con i nostri contadini, ma soprattutto con la gente, diciamo, la meraviglia della vendemmia. Che vino avremo quest'anno? Quest'anno sarà un vino interessante perché la vendemmia è stata molto difficile e quindi ha dato modo a noi di poter, diciamo, doverci adattare all'evoluzione dell'uva sulla pianta. Per cui abbiamo dei vini, abbiamo dei bianchi che sono sia freschi sia molto importanti e dei rossi davvero ricchi. Non è stata una bella natata di rosso quest'anno. Le temperature quindi hanno favorito il vino di quest'anno? Sì, sicuramente, ma soprattutto l'andamento climatico. Il vino si fa in estate, diciamo, nel mese di luglio-agosto condizionano il resto della vendemmia. Quest'anno è stata un'annata molto anticipata, per cui abbiamo avuto una vendemmia iniziale di vini ricchi, intensi, diciamo, molto importanti e poi con la frescura di settembre, invece, le seconde raccolte sono venute un po' più, diciamo, fresche, ma anche sempre con una certa importanza a livello di estratto. Festa del vino alle cantine Pietratorcia. Il vino è sinonimo di festa, quindi è un'occasione bella e importante per le famiglie socie della nostra azienda, ma ritengo che lo debba essere e spero lo diventi sempre di più una festa dell'isola d'Ischia. D'altronde il recupero delle tradizioni, delle radici e anche il recupero dei principi e dei valori che hanno segnato la vita del nostro tessuto sociale. L'Ischia campava prevalentemente di terra, di agricoltura, di viti e di vino e la civiltà contadina era l'attrice di sentimenti positivi, la solidarietà, l'amicizia, l'incontro, il confronto, a volte anche duro, ma che portava sempre a cose buone. Penso che qualche problemino l'abbiamo avuto esattamente quando abbiamo dimenticato le nostre origini pensando di riconvertire l'economia, ma abbiamo convertito negativamente anche le nostre coscienze.